Altri sette comuni aderiscono all'area vasta che vede Avellino capofila. Questa mattina l'assemblea dei sindaci per siglare ufficialmente l'ingresso di Montemarano, Montefalcione, Castelvetere, Venticano, Torre Lenocelle, Pietra De Fusi e Torrioni. L'obiettivo è quello di mettersi insieme per accedere ai finanziamenti disponibili. L'area vasta punta soprattutto su turismo religioso, enogastronomico e sul rilancio della tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio. Gli obiettivi sono quelli di elaborare, è già stato fatto quindi sarà integrato con le proposte che riguarderanno questi comuni, una proposta di sviluppo di quest'area della provincia che possa determinare un modello che sia compatibile con la nostra provincia fondato su ciò che noi abbiamo, quindi beni culturali, ambiente, prodotti tipici, turismo religioso e siamo convinti che questo sia il modo migliore per spendere bene i fondi europei e spenderli nei tempi dettati dall'Unione Europea. Nessuna competizione, dice l'assessore, con le altre aggregazioni sorte sul territorio, ma anzi confronto e dove possibile progetti comuni. Le aree vaste devono dialogare, comunicare, interagire ed eventualmente presentare anche dei progetti comuni. Questo è la nostra intenzione, di fatto c'è una collaborazione ad esempio con il comune di Solofra per quanto riguarda il collegamento ferroviario con Napoli, ci sarà una proficua collaborazione con i comuni afferenti al progetto pilota e che sono sede di stazione, di stazioni della Avellino e Rocchetta Sant'Antonio per quanto riguarda la ferrovia turistica. Sicuramente troveremo occasioni di collaborazione anche con l'area vasta che si è organizzata attorno ad Ariano.